Lo sportello del cittadino è a Taranto, precisamente presso la strada che fiancheggia la spiaggia di Tramontone. Siamo in compagnia del Cavalier Alfredo Luigi Conti, che è il portavoce del comitato di quartiere Pezzavilla Verde e Sport. Una denuncia, quella di oggi, chiamiamola propositiva, perché ci troviamo in una bellissima area, proprio la strada che fiancheggia a pochi passi dalla spiaggia di Tramontone, però è una strada purtroppo dissestata e di fatto un percorso di guerra con buche, asfalto saltato e quindi è di fatto accessibile ma con rischi pesanti sia per chi cammina a piedi sia per chi arriva in auto, perché in effetti gli ammortizzatori saltano. E allora uno si domanda, ma una zona bellissima, baciata dal sole, dal mare e da madre natura, rendiamola fruibile turisticamente attraverso adeguati interventi. E' questo il senso del nostro appello che rivolgiamo all'amministrazione comunale con il Cavaliere Alfredo Conti. Allora, ritengo che sia opportuno che questa zona, questa parte di costa sia adeguatamente al servizio dei cittadini. In primis rendere possibile camminare con le macchine. È vero che è una strada che è di terreno demaniale, ma chiedendo le varie autorizzazioni si deve asfaltare. Una collaborazione tra l'amministrazione comunale e De Manio, in fondo. Parliamo di beni che sono quanto alla proprietà, tra virgolette, borderline, diciamo così. Esatto. Un accordo, un'intesa tra i due enti. Tra i due enti che permette la possibilità di accedere con le macchine su una strada, perché a tutti gli effetti è una strada che si affaccia sul mare, sulla costa di Tramondone. È una bellissima costa, una bellissima spiaggia dove è frequentata da migliaia di persone sia sulla parte rocciosa che sulla... Una baia meravigliosa. Ora noi siamo in primavera, agli inizi della primavera e magari il problema così potrebbe passare in secondo piano, ma immaginate tra due o tre mesi quando ci auguriamo che la pandemia abbia allentato la presa e che la gente riscopre la voglia di vivere, la voglia di... ma soprattutto per i turisti, oltre che per i cittadini. Allora io dico asfaltare la zona, renderla fruibile e collegarla alla spiaggia. Esatto, in più sarebbe opportuno per rendere proprio un luogo di, come si vuol dire, turistico, bisogna... Un'appel turistico, un'attrattiva turistica. Un'attrattiva turistica, anche perché qui vengono parecchi turisti, affittano le ville, qua ci sono migliaia di ville nella zona. C'è tutto un business, anche consideriamo i ristoranti, le pizzerie, i bar, un'economia che circola. Circola, bravo. Una staccionata in legno messa bene che fiancheggi la strada e mette in sicurezza chi cammina. Asfaltare tutta la strada, quindi questi dossi, cunetti e roba varia. Poi una bella staccionata e poi un appello, ne parlavamo prima, per quando riguarda le passerelle per i disabili. Perché c'è gente che, passerelle fatte bene, che possono portare a far accedere ai disabili in spiaggia. Perché è un peccato di Dio che, sì, possono andare migliaia di persone a soleggiare, a farsi il bagno, ma i disabili non possono accedere. E la cosa mi urta tanto. Allora bisogna rendere fruibile per i disabili, fruibile nei confronti dei turisti, fruibile nei confronti dei residenti, che qui frequentano, ripeto, migliaia di persone. Allora, questo è l'appello che rivolgiamo, innanzitutto per i disabili, perché l'estate il diritto alla vita, il diritto alla distrazione deve essere di tutti. Non ci sono differenze tra abili, tra diversamente abili e normodotati. E in ogni caso, ripeto, un appello, perché questa zona, noi abbiamo, Taranto purtroppo, sapete tutte le battaglie che io faccio, Taranto è la città dei veleni con l'Ilva, ma Taranto è anche la città del sole e del mare. Allora, nel momento in cui noi elimineremo quel maledetto mostro, o parallelamente, andando a ridurre e a isolare quel mostro, noi parallelamente dobbiamo sviluppare le vie alternative, il turismo. Allora, questa zona, che tantissime parti d'Italia ci invidiano, se la sognano di notte e di giorno, allora a questo punto un'area meravigliosa, un'area baciata da madre natura, perché non valorizzarla con adeguate infrastrutture, attendiamo interventi congiunti da parte di amministrazione comunale e di demanio, dallo sportello del cittadino, Luigi Abate e Alfredo Luigi Conti, è tutto. Vi aspettiamo per ulteriori segnalazioni, sempre al servizio della collettività. Grazie a tutti.